Conoscete tutto quello di cui ha bisogno la vostra bicicletta per la corretta manutenzione? Il controllo del manubrio e del supporto manubrio, la regolazione dei patini dei cavi dei freni, la lubrificazione della catena, il serraggio della pedivella e dei pedali, la pressione dei pneumatici, la centratura delle ruote. Niente panico! Non vi preoccupate, da Decathlon, il nostro servizio laboratorio si occupa di tutto. Per la vostra tranquillità, vi proponiamo la manodopera sicurezza che comprende tutte le regolazioni necessarie al buon funzionamento della vostra bicicletta. Controlliamo lo sterzo e il sistema di frenata, centriamo le ruote e regoliamo la pressione dei pneumatici e regoliamo gli elementi della trasmissione. E se la vostra bici è molto sciupata, vi proponiamo una manodopera di rimessa a nuovo che integra tutte le regolazioni e le sostituzioni dei pezzi di ricambio. Ci occupiamo di regolare e cambiare la serie sterzo. Sostituiamo i cavi e le placchette dei freni e li controlliamo. Cambiamo i pneumatici e le ruote e le centriamo. Ed infine, sostituiamo e regoliamo gli elementi della trasmissione. Quando recuperate la vostra bici è come nuova. Ed in più, verifichiamo anche la bici dei vostri bambini. Circolate in tutta tranquillità. Al resto, pensiamo a tutto noi. È il nostro mestiere.